Facial Time La prossima primavera estate 2012 abbiamo messo delle nuove proposte per quanto riguarda Calvin Klein ovvero siccome è una stagione che andrà direttamente sul minimalista puntiamo molto anche sulle tinte unite, sugli spalmati e la tendenza in generale è su una riduzione delle applicazioni quindi lavoreremo come dicevo poc'anzi con le tinte unite in generale con delle stampe abbastanza sobrie come possiamo vedere un po' anche da queste rappresentate impreziosite dalle applicazioni comunque sempre con un tono abbastanza semplice, elegante questo discorso lo possiamo riportare sugli accessori i quali hanno sempre questa forma molto lineare, molto dolce che rappresenta un po' la filosofia Calvin Klein anche del mondo per quanto riguarda l'abbigliamento e anche della profumeria in generale tutta una linea molto easy, molto facile, un po' per tutti i gusti qua invece per il 2012 l'uomo è chiaramente per Calvin Klein un po' il cavallo di battaglia in quanto la nostra collezione è sempre stata forte, fortissima sulla parte dell'uomo l'uomo è anche qui come un po' per la donna abbiamo delle linee molto più semplici, pulite senza grosse fantasia a parte qualcosa che come sempre riusciamo a preparare per i nostri clienti più affezionati e particolari ma in linea di massima la collezione è molto lineare, pulita con le tinte unite che faranno da padrone per la prossima stagione Calvin specialmente nella parte dell'underwear che un po' è stato l'apripista rispetto al beachwear è stato uno dei promotori a livello proprio di underwear in generale infatti dal 1968 che è presente con la sua linea dagli Stati Uniti e poi piano piano si è trasferito in Europa così se vuoi vedere anche dei prodotti particolari abbiamo anche delle stampe molto particolari e flow con i colori che sono fluorescenti e molto aggressivi per la stagione e in contrasto invece abbiamo come dicevo prima le tinte unite in colori molto più soft abbiamo anche questa parte del verde militare e verde oliva che rappresenta un po' la filosofia molto easy come per quanto riguarda la donna nel concetto Calvin Klein stessa cosa abbiamo anche gli accessori con la sacca molto facile per poter utilizzare sul mare la sciabatta, la flip flop, l'infradito che rimane sempre una parte indispensabile per avere un total look Calvin passando dal boxer allo slip e per arrivare come dicevamo prima poi al collubio totale che rappresenta anche con la t-shirt che puoi vedere qua che è la nostra polo e la sacchettina per concludere il tutto grazie